Roberto Floriano, partita da titolare, premiate le tue ultime prestazioni a partite in corso in cui hai fatto due assist, la prestazione è condita anche da un gol, soddisfatto? Sì, soddisfatto perché era da tanto che non partivo dal primo minuto e quindi penso di essere stato pronto anche questa volta e felice per il gol e per la vittoria della squadra. Sei uscito nel finale, eri un po' stanco, c'è stata un'ovazione del pubblico che ha prestato i tuoi doti? Sì, quello fa sempre molto piacere, so che la gente di Foggia mi sostiene moltissimo, quindi contentissimo di questo e spero di dimostrare sempre anche il mio affetto nei loro confronti in questo modo. E tempo di bilancio, anche se il mister dice che ci sono ancora tre partite, nella tua stagione quattro gol, nella prima stagione in B, forse un minutaggio un po' più alto sarebbe stato più gradito? Sì, quello sicuramente ogni giocatore spera è di giocare sempre di più, sì al ritorno ho giocato un po' poco, però il mister fa le sue scelte, io più che essere pronto non posso fare, quindi penso di essere sempre stato pronto, quindi comunque positivo come bilancio. Diciamo che hai avuto molta concorrenza su quella fascia lì, il mister pur di farti giocare ti ha provato in diversi ruoli, mezzala, oggi hai dimostrato di poter fare anche la seconda punto? Sì, ma l'avevo già dimostrato anche a fine andata, perché comunque Salerno, Frusinone, insomma verso fine andata avevo già fatto il ruolo, mi sono adattato abbastanza bene, sicuramente non esalta le mie caratteristiche, però penso di averlo dimostrato, di poterci stare. Ultima domanda per la prossima partita a Venezia? La prossima partita a Venezia? Speriamo, faremo il nostro solito gioco, cercheremo di vincerla come al solito e speriamo bene.